Ernesto, che, Guevara è stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. È nato a Rosario, in Argentina, il 14 giugno 1928. La sua figura è ancora oggi oggetto di controversie, ma è indubbio che sia stato uno dei personaggi storici più iconici del ventesimo secolo. Guevara nacque in una famiglia benestante. Il padre era un ingegnere e la madre una maestra. Fin da piccolo, Ernesto era un ragazzo curioso e avventuroso. Amava viaggiare e conoscere nuove culture. Nel 1951, intraprese un viaggio in motocicletta attraverso l'America Latina, che lo segnò profondamente. Durante questo viaggio, Guevara fu testimone delle ingiustizie sociali e della povertà che affliggevano il continente. Queste esperienze lo spinsero a diventare un rivoluzionario. Nel 1955, Guevara si recò in Messico, dove incontrò Fidel Castro e Raul Castro. I tre decisero di unirsi per combattere contro la dittatura di Fulgencio Battista a Cuba. Nel 1956, Guevara partecipò alla spedizione dei 121, che si imbarcò da Taxpen, in Messico, alla volta di Cuba. Dopo un lungo e difficile viaggio, la spedizione sbarcò a Cuba il 2 dicembre 1956. I rivoluzionari iniziarono una guerriglia contro le forze di Battista. Dopo tre anni di combattimenti, la guerriglia ebbe successo e Battista fu rovesciato nel 1959. Dopo la rivoluzione, Guevara ricoprì diversi incarichi nel governo cubano. Fu ministro dell'Industria, presidente della Banca Nazionale e direttore dell'Istituto Nazionale per la riforma agraria. Guevara era un sostenitore del socialismo e credeva che la rivoluzione cubana dovesse ispirare altri movimenti rivoluzionari in tutto il mondo. Nel 1965, Guevara lasciò Cuba per aiutare altri movimenti rivoluzionari in America Latina. Si recò in Bolivia, dove guidò una guerriglia contro il governo del presidente René Barrientos. La guerriglia fu sconfitta e Guevara fu catturato e fucilato il 9 ottobre 1967. La morte di Guevara fu un evento tragico, ma la sua figura continua a essere un'ispirazione per molti. Guevara è considerato un simbolo della rivoluzione e della lotta per la giustizia sociale. Il pensiero di Che Guevara Il pensiero di Che Guevara è stato influenzato da diverse correnti ideologiche, tra cui il marxismo, il socialismo e il panamericanismo. Guevara credeva che la rivoluzione fosse l'unico modo per liberare i popoli oppressi dal capitalismo e dal colonialismo. Guevara era anche un sostenitore del socialismo e credeva che fosse il sistema politico più giusto ed equo. Guevara sosteneva che il socialismo dovesse essere basato sui principi della giustizia sociale, dell'uguaglianza e della solidarietà. Infine, Guevara era un sostenitore del panamericanismo e credeva che l'America Latina dovesse unirsi per creare un futuro migliore per tutti i suoi popoli. Guevara sosteneva che l'America Latina dovesse essere liberata dal dominio degli Stati Uniti e che i suoi popoli dovessero essere liberi di decidere il proprio destino. L'eredità di Guevara L'eredità di Guevara è ancora oggi oggetto di controversie. Alcuni lo considerano un eroe, mentre altri lo considerano un terrorista. Tuttavia, è indubbio che Guevara sia stato una figura importante del ventesimo secolo. La sua vita e il suo pensiero hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Guevara è considerato un simbolo della rivoluzione e della lotta per la giustizia sociale. La sua immagine, con il suo iconico basco e la barba, è un'icona della cultura popolare. Guevara è stato rappresentato in film, libri, canzoni e opere d'arte. La sua eredità è ancora viva oggi. I suoi sostenitori continuano a lottare per la giustizia sociale e la rivoluzione. La sua figura è un'ispirazione per tutti coloro che credono in un mondo più giusto ed equo.